Nel bene o nel male, purché se ne parli, ci perdoni Oscar Wilde se usiamo la sua celebre frase per spiegare cosa sta accadendo in casa Orlandina Calcio. Ma obiettivamente in questo momento è l'unica appropriata. Già, perché quest'anno il presidente Massimo Romagnoli ha deciso di far parlare di sé e della sua creatura con cadenza giornaliera e che importa se bene o male. Ecco, l'importante è che si faccia rumore. Rumore? Diciamo un casino pauroso, un'incredibile confusione. Già, confusione. Chissà perché all'umine cronista, l'Orlandina che sta nascendo sembra una specie di torre di babele. Fatta l'iscrizione nei modi e nei tempi imposti dalla Lega, il poliedrico presidente si è messo all'opera per costruire una squadra che costerà circa il 30% e meno rispetto alla scorsa stagione e la qualità della rosa sarà superiore al 150%. Le testuali parole del primo tifoso paladino. Bene, ciò detto, ecco che arrivano due allenatori. L'ucraino Victor Palucco e il catanese Santo Mazzullo, poi un responsabile dell'area tecnica nello spampinato, un direttore sportivo Sergio Paradiso e un direttore generale Paolo Arcivieri. I giocatori ovviamente ci sono. E come? E che giocatori? Tutti con un curriculum da dieci e lode. Campioni di Germania, d'Africa, della Polonia, del Giappone e chi più ne ha più ne metta. Non mancano né gli italiani né tanto meno i siciliani. Torre di Babele? Tranquilli, qua non si rischia. Garantisce Pasulsko, che nel contratto ha anche preteso un premio promozione. Il mister è uno che ci va giù duro, infatti con la truppa straniera è già al lavoro in terra tedesca. Certo, si parlerà inglese, napoletano ed in qualche caso anche il siciliano o nello specifico il catanese, però il risultato è garantito, almeno stando alle dichiarazioni della vigilia. A proposito di qualche presa di posizione, in questi giorni c'è stata quella di Gennaro Marrasco, il fautore della salvezza dello scorso anno, tanto per intenderci. Ecco, il buon Gennaro ha detto, senza mezze parole, al suo ex presidente di onorare gli impegni economici. Quello che dico lo posso provare tramite documenti e messaggi. Caro presidente, le ricordo che noi siamo giocatori e viviamo di questo. Con il calcio sosteniamo le nostre famiglie. La chiosa finale del Bomber Campano è tutto un programma. Posso fare gli auguri all'Orlandina e agli Orlandini, che Dio ve la mandi buona. La risposta di Romagnoli non si è fatta attendere. Sapeva bene il giocatore che il ritardo nel pagamento di due soli ratei era da imputare alle priorità dell'iscrizione al campionato e della fiduizione, cui abbiamo dovuto fare fronte nei giorni scorsi. Ritengo che convenga a tutti abbassare i toni e farsi guidare dalla ragione. Ragione è ragionare, infatti. Per semperare, sembra che siano partite anche le querele. Già, che Dio ce la mandi buona.